Questa è la scena finale, una scena bella devo dire, c'è la riconciliazione tra mamma e figlia quindi il lieto figlio che a me piace sempre nelle storie, bellissimo secondo me un bel quadretto, mi piace. Bello, chiaramente sono favorevolmente impressionato, a volte ci sono piccoli particolari che rovinano una scena, particolari impercettibili per noi magari, però nell'inquadratura si notano delle piccole imperfezioni, siamo quasi, le ultime prove, le ultime immagini, stanno provando adesso delle inquadrature diverse però ormai ci siamo, siamo quasi alla fine, fino a qui. Sono stati tre giorni serrati devo dire, dalle 7 del mattino fino alle 4 del pomeriggio sempre a lavorare, fortunatamente il tempo ha retto abbastanza quindi siamo stati anche abbastanza fortunati. Comunque l'esperienza è stata veramente bella, da non dimenticare, veramente. Grazie a tutti!